questo è il balcone fiorito più bello di mirabelle clan un'apposita commissione lo ha premiato claudia marine nell'artefice cosa significa questa esplosione di petunie questa esplosione di petunie c'è un grande significato la petunia rappresenta l'amore che non si può nascondere un amore che sia per una persona che sia per amicizia che sia per il proprio paese in cui vivi rappresenta l'amore gioia e l'amore per curare questi fiori non ci vuole molto fatica ci vuole poco ma ci vuole soprattutto l'amore l'amore è quello che fa rendere i fiori belli io a volte parlo con le piante può essere anche una cosa molto però quando mi alzo la mattina alzo il mio bar apro il mio balcone le mie piante mi stanno aspettando io dico buongiorno una cosa molto bella infatti le voleva ringraziare la commissione e anche il comitato festa che l'ha premiata si ringrazio il comitato festa che mi hanno dato questa opportunità ringrazio a don remigio che è stato di un affetto unico alla giuria ringrazio tutti quanti ma sono tantissimi anni che vivo a mirabella vi assicuro che questa è stata la più bella festa di mirabella lei è di origini rumene questo balcone vuole essere anche un tributo a mirabella e clano che l'ha accolta da tanti anni lei si è inserita qui lavora a una vita sociale sì io vivo qui da quasi 27 anni ringrazio a tutti quanti mirabella per l'affetto che mi avete dato il mio balcone è anche un segno di ringraziamento di amore per mirabella per tutti quanti che mi avete dimostrato tanti tanto affetto